Buongiorno cari ascoltatori di Radio Maria, il libro che vi presenteremo oggi si intitola Il coraggio del perdono, edito da Sugarco, autore Padre Livio. La tematica del perdono è talmente centrale nella vita cristiana che la condiziona radicalmente. Ci salviamo se chiediamo a Dio il perdono dei nostri peccati e nel medesimo tempo ci salviamo nella misura in cui noi perdoniamo gli altri. È quindi importante che i credenti prendano coscienza della centralità del perdono nella vita cristiana poiché senza di essi non c'è il cristianesimo. Il perdono viene donato a tutti quelli che si pentono e lo chiedono con cuore umile e contrito. Eppure non sono molti coloro che cercano e accolgono questa inestimabile grazia. Il perdono è un miracolo di amore da parte di Dio ma anche un miracolo che accade nel nostro cuore. Un cuore chiuso nell'odio che si apre al perdono è un cuore nel quale è avvenuto il più grande dei miracoli o uno dei miracoli più grandi che possano accadere. Il perdono è la medicina di cui l'intera umanità ha bisogno. Il dono di Gesù crocifisso per gli uomini di tutti i tempi è in primo luogo il perdono dei peccati. Senza la medicina del perdono non solo la vita quotidiana diventerebbe un inferno ma il futuro stesso dell'uomo sulla terra verrebbe compromesso. Il perdono di Dio libera il cuore guarendolo dal veleno del serpente omicida. Il tema del perdono è stato sviluppato da padre Livio nei 34 capitoli di questo volume. Leggiamo ora la trama del libro. Il perdono è la medicina di cui l'intera umanità ha bisogno ma chi la può offrire se non colui che ha amore e misericordia? Questa medicina è stata donata dall'alto della croce a quelli stessi che avevano commesso il più vergognoso dei delitti. Il dono di Gesù crocifisso per gli uomini di tutti i tempi è in primo luogo il perdono dei peccati. Il perdono di Dio libera il cuore guarendolo dal verreno del serpente omicida. La dittatura della violenza e della vendetta viene abbattuta. I lupi si trasformano miracolosamente in agnelli. Ogni cuore deve fare la sua battaglia dalla quale dipenderà il suo destino ultimo. Chi chiede perdona a Dio e perdona i fratelli si salva. Gesù Cristo è lo spartiacque della storia. Con lui è nato un popolo nuovo governato dalla legge dell'amore. Un cuore che accoglie il perdono divino e lo dona agli altri è il miracolo più grande che si ripete in ogni momento sulla terra. Il perdono è il futuro dell'umanità. È l'unica strada percorribile, è il vestillo della speranza. Il perdono dei peccati è la grazia della salvezza e la grazia della salvezza consiste nel chiedere il perdono dei nostri peccati e di perdonare il male che gli altri ci fanno. Imparare a chiedere perdono e a donarlo è la fatica e la gioia della vita cristiana. Non vi è nulla di più prezioso che i cristiani possono donare al mondo di oggi. Potrete richiedere questo bellissimo libro scritto da Padre Livio chiamando il nostro ufficio informazioni allo 031 610 600 scrivendo un'email a info.ita.radiomaria.org oppure potrete ordinarlo direttamente dal nostro catalogo online sul sito www.radiomaria.it. A tutti voi cari ascoltatori un augurio di una buona lettura!